Il consigliere regionale del Partito Democratico, Sandro Mariani, denuncia il totale silenzio del governatore abruzzese sul tema che in questi giorni sta infiammando il dibattito politico regionale, ovvero l'avvio dei lavori sul traforo del Gran Sasso, che hanno portato con sé le immancabili polemiche legate alle code chilometriche sulla 24 e i disagi per chi sceglie di percorrere la statale 80, passo delle capannelle, in base dai campieri. Al netto delle facili battute sulle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa alla stampa dal governatore Marsilio, secondo cui i terramani dovrebbero essere solo contenti per l'avvio dei lavori, per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso ed evitare quindi inutili e sterili polemiche, come le chiama lui, spero che finalmente questa maggioranza di centrodestra prenda atto del grande disagio che subiscono lavoratori pendolari e cittadini che vedono moltiplicati i tempi di percorrenza per spostarsi all'Aquila e Roma, sottolinea Mariani. Urge quindi che il presidente Marsilio prenda finalmente in mano la situazione e convochi, come già chiesto più volte, un tavolo di coordinamento tra Regione, Anas, Autostrade per l'Italia e Autostrada dei Parchi affinché vengano coordinati i vari cantieri al momento presenti e si limitino così i disagi per chi percorre A24, A14 e state alle 80. Oggi la provincia di Teramo rischia di rimanere tagliata fuori da tutte le direttrici viarie con gravi ripercussioni per il tessuto produttivo ed economico, visti i forti rallentamenti sull'asse adriatico e le lunghe code verso quello tirrenico, conclude il consigliere regionale del PD. La situazione sulla A24 è davvero complessa. La società di trasporto unico abruzzese TUA annuncia che le corse nella tratta Valvomano-Colledara-L'Aquila saranno interessate da ritardi fino a circa 30 minuti, a volte anche un'ora e di conseguenza le coincidenze da Teramo per Roma e Avezzano potrebbero non essere garantite. Per ovviare alle problematiche, in particolare due corse sono state anticipate nei giorni feriali sulla tratta Teramo-Valvomano-L'Aquila. Quella delle 12.50 partirà da Teramo alle 12.30, 20 minuti prima. La corsa delle 15.30 sarà anticipata alle 15.00.